eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi e buona domenica come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare subito un bel mi piace e ad iscrivervi per non perdere tutte le prossime novità sul mondo di code poi vi ricordo ogni volta che dovete comprare un videogioco nuovo un videogioco del passato dovete rinnovare il vostro abbonamento per giocare online su xbox su playstation se vi serve il game pass crediti digitali per comprarvi giochi digitali passate dai link in descrizione che sono appunto le mie collaborazioni con Enebba ogni acquisto che fare sul canale mi supporterete come mi supporterete se farete gli acquisti sul mio canale delle offerte di telegram e vi ricordo anche se non trovate nulla di vostro piacimento se passate sempre da uno dei link vs aprirà amazon con la mia affiliazione aggiungete un qualsiasi prodotto nel carrello lo comprate anche in quel modo amazon mi riconoscerà un'affiliazione ma non ci perdiamo in chiacchiere perché ho altre belle chicchette per voi per quanto riguarda il nuovo black ops 2024 il presunto black ops 6 innanzitutto il leaker all'enter 90 analizzando delle stringhe nei file di gioco ha dichiarato che la mappa di liberty falls di code 2024 dovrebbe avere e potrebbe avere un'esperienza molto simile a un remake di transit infatti sembrerebbe che sarà fusa con una missione principale e sarà basata sugli obiettivi infatti se ben vi ricordate in questi giorni vi sto riportando un sacco di informazioni in anteprima per quanto riguarda il mondo di zombies con il ritorno presumibilmente delle mappe around e due mappe una che dovrebbe essere questa liberty falls e l'altra mappa che dovrebbe essere appunto un'isola con una prigione quindi ci dovrebbero essere veramente molti contenuti da parte di treyark sul mondo zombies come è stato sempre per i suoi capitoli altra cosa che dovrebbe essere sempre collegata a black ops 2024 è il ritorno a quanto pare della ray gun e del jet gun infatti secondo nuove stringhe di gioco riportate anche dal portale detonated sarebbero per tornare la famosa e immancabile ray gun è presente nei titoli di treyark e zombies e la jet gun quindi entrambi all'interno di zombies di black ops 2024 giusto per fare un recap la jet gun era stata vista l'ultima volta su transit la bellezza di 12 anni fa ma quando uscirà black ops 6 in questi giorni abbiamo riportato nuove informazioni sui contenuti attesi anche sui bonus preorder preparatevi perché nei prossimi giorni arriveranno tantissime altre notizie in anteprima e ci sarà sicuramente questo nuovo trailer ed evento dedicato al reveal di black ops 6 su cui vi darò informazioni in anteprima bene code 2024 a quanto pare dovrebbe essere black ops 6 si prevede che verrà lanciata ad ottobre al momento sarebbe programmato per il 25 di ottobre la notizia viene poco di meno da tome enderson il noto insider che appunto ha fatto negli ultimi giorni un articolo sul suo portale insider gaming la cosa molto importante di cui volevo parlarvi è il fatto della disponibilità perché nei giorni passati è arrivata praticamente la conferma ufficiale prima dalla presentessa di xbox poi dal wall street journal che il gioco sarà disponibile al day one per i possessori del game pass quindi chi avrà il game pass il black ops 6 sarà gratuito però si prevede che il gioco sarà disponibile anche per l'acquisto separato cioè se non avete il game pass il gioco si dovrà praticamente si potrà comprare con un acquisto a parte stesso discorso ovviamente su playstation dove lì invece si dovrà appunto comprare stesso discorso anche per pc quindi questa attualmente è la situazione per quanto riguarda il mondo relativo all'acquisto di black ops 6 ma andiamo a vedere questo approfondimento di insider gaming relativamente all'uscita di call of duty black ops 6 come potete vedere call of duty black ops 6 uscirà il 25 di ottobre infatti secondo un nuovo rapporto di the verge activision sarebbe attualmente mirando a un rilascio di fine ottobre prevista per l'uscita di black ops 6 il 18 ottobre sarebbe considerato metà ottobre date le affermazioni di the verge che puntano a fine ottobre questo suggerirebbe che black ops 6 presumibilmente scenderà il 25 di ottobre infatti insider gaming ha risposto ad exclusive ace che ha dichiarato l'orologio indica le 11.01 di call of duty il primo novembre 2024 che cade di venerdì i giochi di call of duty usciranno e sono sempre usciti ultimamente di venerdì a fine ottobre o all'inizio di novembre ed exclusive ace ha detto black ops 6 uscirà il primo di novembre secondo appunto le sue teorie in merito alle informazioni che ha riportato call of duty invece tom enderson è stato categorico e fino ottobre al momento come programmazione quindi presumibilmente probabilmente uscirà il 25 di ottobre torneremo sicuramente sull'argomento ma intanto in queste ore il rapper dolla è stato invitato o praticamente si è ritrovato lì per caso non lo sappiamo comunque rapper dolla è stato avvistato negli studi di infinity world questo è lo screen che è apparso su tutti i vari social dello sviluppatore quindi presumibilmente questa cosa farebbe venire in mente una nuova collaborazione con altri rapper e soprattutto chissà se arriverà un battle vi darò maggiori informazioni nei prossimi giorni ma parliamo invece di una notizia per quanto riguarda la stagione 4 già vi ho fatto un bel recap su tutte le notizie principali attese per questa stagione 4 bene negli ultimi giorni sono arrivate nuove conferme da bot network uk tramite nuove stringhe di gioco che lo spas 12 che appunto sarebbe programmato in uscita della season 4 vedremo se sarà confermato o rinviato perché nel trailer non è stato avvistato quindi chissà se lo rinvieranno poi a stagione 5 bene lo spas 12 potrebbe essere a kimbo con un accessorio è stato scoperto proprio dall'insider tramite nuovi file di gioco quindi prepariamoci perché lo spas 12 per chi se lo ricordo in precedenti titoli di code era veramente devastante pensate in una versione a kimbo che potrebbe diventare lo spas 12 vi ricordo che questa stagione 4 prevede al momento in maniera praticamente ufficiale il ritorno del car 98 si attende soltanto di capire quale versione se quella di mv 2019 oppure quella direttamente di vanguard che era stato sviluppato sempre dalla sleggia hammer games vi faccio vedere invece una cosa molto curiosa per chiudere il video oggi domenicale nei giorni passati vi ho fatto vedere il trailer ufficiale dell'inizio delle world series of warzone che inizieranno la prossima settimana con le qualificazioni con oltre un milione di dollari di montepremi bene in un fermo immagine della clip del call of duty world of series del trailer se volete lo potete regolare nel video di ieri viene indicato proprio nel all'interno proprio del della seduta dell'aereo warzone migliore del multiplayer cosa veramente molto curiosa quindi chissà come mai hanno voluto mandare questa frecciatina gli sviluppatori o coloro appunto che lavorano per call of duty alla community relativamente a questa situazione sa di fatto che se non ci fosse stato warzone ultimamente il code avete visto tutte le situazioni che sono create dall'uscita di black ops 4 a salire comunque chissà perché hanno voluto mandare questa frecciatina al multiplayer di code fatemi sapere voi che cosa ne pensate e con questo guidiamo un nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty mi raccomando iscrivetevi se siete nuovi un bel mi piace e nebba il canale di telegram per supportarci e noi ci vediamo ad un prossimo video